I progressi ottenuti negli ultimi anni dalla ricerca nell'ambito delle infezioni da HCV e HIV hanno consentito di ottenere nuovi farmaci sempre più efficaci nel controllo virologico dell'infezione da HIV e nell'eradicazione dell'infezione da HCV. Questi progressi hanno migliorato la qualità e l'aspettativa di vita dei pazienti con infezioni virali croniche, ma presuppongono una maggiore attenzione da parte del medico in relazione alle complicanze metaboliche, alla tossicità dei farmaci antivirali e all'eventuale insorgenza di resistenze virologiche che potrebbero inficiare l'efficacia della terapia. Con l'obiettivo di discutere sulle diverse problematiche correlate alle infezioni da HIV e HCV, il 2-3 febbraio nell'Università Magna Grecia si svolgerà un congresso workshop che ha l'obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di implementare future collaborazioni con i massimi esponenti del settore. Durante le due giornate di lavoro, infatti, sarà avviata una discussione sulla realtà infettivologica e virologica calabrese al fine di analizzare le eventuali problematiche inerenti allo screening e la diagnosi del trattamento delle infezioni virali croniche. L'idea di organizzare questo convegno è nata fondamentalmente dall'importanza della problematica clinica. Basta pensare che ancora oggi all'incirca una persona ogni due ore si infetta con il virus dell'HIV e sono almeno 30.000 le persone con infezioni da HIV in Italia che non sanno di avere questa infezione e quindi purtroppo non ricorrono agli adeguati trattamenti del caso. Per quanto riguarda l'epatite C, i dati di prevalenza, sebbene non completamente noti, indicano una stima del 2% di popolazione infetta e in Calabria probabilmente anche di più e soprattutto nelle persone anziane oltre i 70 anni si stima che fino al 20% siano interessati da questo problema e sostanzialmente ogni ora muore ancora in Italia una persona per le complicanze da virus dell'epatite C. Quindi la problematica clinica è veramente molto importante e per l'epatite C soprattutto nella nostra regione. Dottor Belcastro, una due giorni molto importante, 2 e 3 febbraio. Sì, è un congresso internazionale con relatori di livello di spessore mondiale e su un tema attualissimo che è ritornato attuale purtroppo quello dell'HIV e quello dell'epatite C, dell'HCV. Quest'ultimo è al centro di un dibattito interessante che vede scuole di pensiero contrapposto. Il problema dell'HIV è che purtroppo c'è un ritorno, c'è un ritorno non sappiamo dovuto a che cosa e quindi è importante parlarne, è importante questo parlarne a vari livelli e soprattutto è importante e lo si vince anche dal titolo del congresso internazionale, quello tra ricerca e cura.